adesso vedi va sopra la macchina di la berlingo di catalano e poi c'è pure quella ora che parte di peppe non 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 Sì, guarda, 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 guarda. Sì, lì, 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 la mia è quella vicina a quella di Emma. Sì, si fa la foto. Io non mi reclitto, è Franco, è teatro, hai la foto. Francio, si fa la foto. Guarda, dove sei? È Franco, è un fotografo ufficiale. Ma con questione del catturale? Sì, è dapperti. È andata a prima. Sono solo nove. Tiro più giù. C Mana devo essere? Più giù.